Grazie a tutti Qual è la genesi di questo film? Come è iniziato tutto? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Innanzitutto sono estremamente contento di essere qui in questo festival così importante a rappresentare il Brasile e diciamo che la storia ha avuto le mosse da quelle che le storie stesse racchiuse nelle favela in particolare una favela e in particolare Shatuba che è una favela di grande grande importanza nel senso ha moltissime storie molto potenti molto singolari che mi hanno ispirato Nello specifico è tutto partito da un amico, da una persona che conosco insomma da un amico di uno dei miei fratelli, De che stava vivendo effettivamente la situazione che si vede nel film nel senso viveva questo difficile momento con la nonna affetta da Alzheimer allo stadio terminale che quindi sarebbe potuta morire da un momento all'altro e mi ha molto interessato vedere come in realtà, la tipologia di rapporto che si è sviluppata tra lui, la nonna e i suoi amici un livello, questo rapporto di estremo amore, affetto e supporto reciproco che mi ha spinto proprio a raccontare questa storia in particolare perché l'affetto, la solidarietà, l'amore sono dei fattori diciamo che possono cambiare totalmente, rivoluzionare totalmente la realtà e tutto questo mi ha toccato profondamente, mi ha commosso e io amo parlare e mostrare, fare i film su quello che tocca, mi commuove Stavo, dopo aver visto il film ho letto un po' i commenti e ne ho trovato uno molto bello che di, credo di un ragazzo brasiliano che diceva che finalmente c'era un film che lottava contro gli stereotipi del racconto, della narrativa sulle favelas e dava speranza quindi mi chiedevo se era felice che questo film desse speranza e sarà questa la sua intenzione La intenzione è stata di dare speranza e eres felice che puoi dare speranza come scrivi il joven che dice che la pellicola, il film sovrappassa gli stereotipi e dona speranza Bonita, bonita observazione a mia madre, ela veio do interior do Brasil una madre preta, molto pobre che creò sei figli e sem pai ma è stata molta fiducia la credita molto, è molto otimista e il popolo brasiliano soffre molto diariamente ma è un popolo che ha speranza, ha fiducia e è importante parlare questo che, anche con dolore, crediamo che i migliori che i migliori di verano quindi, quando si intende questa forma è una forma bonita del popolo brasiliano è una resistenza è un brasil che credita non è a toa che ora abbiamo un presidente che crediamo nele abbiamo esperanza per che questo governo melhore le giustiazioni brasiliane e il film è un film che è jove ma che è positivo e che è leve e è una verità è un bel commento veramente profondo e corretto nel senso che rappresenta effettivamente quello che è il popolo la gente brasiliana nel senso mia madre che viene dal profondo interno delle zone interne del Brasile da un ambito di estrema povertà ha cresciuto da sola sei figli e questo l'ha potuto fare perché ha sempre avuto io non ho avuto un padre l'ha potuto fare perché ha sempre avuto fede ed è sempre stata spinta da un profondo ottimismo che è una delle caratteristiche diciamo basilari del popolo dei brasiliani nonostante sofferenze nonostante persecuzioni nonostante momenti di grande dolore la gente la mia gente ecco non ha mai rinunciato alla speranza la speranza è sempre stata presente è sempre stata quella che con l'ottimismo gli ha fatti andare avanti gli ha distaccati da tutti gli altri soprattutto adesso che in Brasile c'è anche un governo che ci ridà speranza nel senso che ha determinate cose che sono misure che sono state prese ci ha ridato speranza e ci ridà ulteriore conferma questa positività è questo che volevo fare appunto un film che fosse pieno di positività e di speranza e alla luce di questo prima di iniziare l'intervista ci hai detto che questo film sta vincendo molti premi e ce n'era uno che era il premio del pubblico e allora ti chiedo quanto è importante che questo film arrivi al pubblico alle persone vere al di là di noi addetti ai lavori che cosa speri che porti anche sull'intervista si dice che il film la pellicola ha ganato molti premi è il premio del pubblico è importante che sia universal e accreditato molto 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 importante io sono figlio di una empregata vi di origine molto e ho filmo il filmo il che liga la camera per un povo per la storia del povo quindi se il povo sta nella tela bisogna se ver bisogna se sentire representati e quando comecei a studiare a arte è o espelho della sociedade se Shakespeare falava che arte è o espelho della sociedade questa sociedade che mostra nel film precisa se ver se consigo fazer com que ela per me comunicare con il io prefero iniziare il mondo attraverso il cinema io prefero entender il Iran prefero attendere paesi del continente africano Europa attraverso il cinema il cinema mi insegna a entender il mondo quindi credo che io come cineasta posso ensinar il mondo a entender il dove vivo è extremamente importante che l'universalità diciamo così di quello che questo film appunto che raggiunga il pubblico è il pubblico più ampio possibile proprio perché parla di persone di un popolo di gente che esattamente come era mia mamma mia mamma che proveniva da un ambiente estremamente povero di povertà che era una persona che lavorava come tanti altri come operai come come donna delle pulizie e non aveva e che non è mai di cui i film normalmente non parlano cioè queste persone che non sono sottorappresentate sono mai rese visibili il mio film quello che voglio fare è raccontare le storie di queste persone di queste persone e della loro povertà ma della loro vita nella loro positività e speranza che permette loro di diventare quello che sono lo spirito trainante della società lo spirito della società che deve essere mostrato esattamente come Shakespeare mostrava lo spirito della società dei suoi tempi e dei suoi luoghi è quello che voglio fare io mostrare lo spirito della società e i premi che ha ricevuto appunto il film confermano che in realtà devo essere sulla strada giusta sia come regista sia come sceneggiatore o comunque come punto di vista come approccio perché quello che voglio fare è appunto comunicare a me interessa il cinema in quanto mezzo di comunicazione con il resto del mondo e infatti io conosco il resto del mondo anche non so Africa Europa e così attraverso il cinema frequento imparo vedo ed è esattamente quello che voglio fare mostrare da un punto di vista diverso e quindi ci auguriamo di incontrarci nuovamente grazie Luciano Vidigal per Casa Branca grazie a Giola Viglietti per averci aiutato a tradurre il pensiero di Luciano in bocca al lupo e a suerte grazie 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 sempre incontro camion paracasa e voglio solo aggiungere quella che in realtà una frase che topica e rappresentativa del film che alla base del film l'amore che è un detto diciamo così africano e l'africa l'amore trova sempre la strada di casa vediamo ci piace casa branca al 42esimo torino film festival e sono chiara nicoletti per fredd festival insider grazie